La storia lo ricorderà come il primo impegno del Premier incaricato. L'avvocato difensore del popolo italiano, come si definisce Giuseppe Conte, ha accolto i risparmiatori feriti dal crack di BPV e Veneto Banca. Ecco le foto dell'incontro, ce le manda Patrizio Miatello in tempo reale da Montecitorio. La tecnologia annulla le distanze e il nuovo corso della Terza Repubblica riparte proprio dai social, dagli annunci online, dalla trasparenza digitale. Giuseppe Conte fa capire subito che a Roma l'aria è cambiata e chiude la sua prima giornata da presidente incaricato stravolgendo gli schemi e aprendo le porte alla delegazione di risparmiatori. L'avvocato del popolo italiano mette in chiaro che queste persone hanno diritto a essere ascoltate dalle istituzioni, chiedono il rispetto dei loro diritti e che il loro risparmio venga tutelato, essendo frutto spesso di sacrifici. Questa tutela sarà uno dei principali impegni di questo governo, il governo del cambiamento. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito. Musica per le orecchie degli ex soci di BPV che hanno spiegato l'urgenza di un fondo per affrontare le emergenze più gravi, i casi più disperati. L'incontro dura un'ora e mezza ed è il preludio del faccia a faccia di oggi tra il futuro premier e il governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco. Inizia a muoversi qualcosa dalla capitale, Patrizio Miatello, promotore delle associazioni unite per il fondo, invia a Rete Veneta questo video pieno di speranza. Abbiamo chiesto urgenza per l'immediato rimborso ai risparmiatori traditi in quanto c'è una emergenza sociale in atto. Lo stesso ha confermato che nel contratto di governo è previsto il rimborso totale ai risparmiatori traditi. Noi siamo fiduciosi, ringraziamo il premier e gli auguriamo un buon lavoro.